Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio dal titolo Inferni Medievali, dipingere il mondo dei morti per orientare la società dei vini di Andrea Gamberini, appena pubblicato da Viella. Io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro graditissimo ospite, al quale lascio subito la parola. Prego, professor Gamberini. Grazie, grazie davvero, grazie al dottor Cali per l'introduzione e per l'opportunità di presentare al pubblico questo volume che in effetti arriverà in libreria proprio in questi giorni. Allora, innanzitutto perché scrivere un libro sulle rappresentazioni dell'inferno, qui vediamo la copertura. In effetti nel corso degli ultimi 20-30 anni non sono mancate pubblicazioni su questo libro, però credo che le novità siano due da segnalare subito. La prima è che il testo prende in esame anche raffigurazioni poco note, poco analizzate o addirittura in qualche caso mai analizzate, mai studiate. La seconda è che la prospettiva del volume non è una prospettiva storico-artistica, perché io non sono uno storico dell'arte, io sono uno storico della società e della politica e quindi questa è l'angolatura del volume. Il volume mira, questo è un po' il suo scopo, a mettere a fuoco il messaggio delle immagini, sia in relazione al contesto di produzione, è chi le ha commissionate, sia in relazione al contesto di produzione, il pubblico di destinazione. E allora cominciamo col dire che le immagini dell'inferno erano molto familiari agli uomini della società medievale, che le potevano vedere in diversi luoghi, soprattutto, ma come vedremo non soltanto in chiesa, dove di solito facevano parte di un tema iconografico più ampio, che era quello del giudizio, del giudizio di libertà. Se non ricordo una bellissima poesia, con la quale ho anche introdotto il volume di un poeta francese, François Avignon, è la ballata di Nostra Signora, in cui il poeta, siamo alla metà del Quattrocento, fa dire alla propria madre. Ecco, la testimonianza della madre è molto indicativa di un turbamento emotivo di fronte alle immagini del giudizio. La domanda da cui sono partito allora è proprio questa, se le immagini vogliono smuovere le coscienze. In quale direzione? E la risposta, come cercherò di mostrare, è assai meno scontata di quanto non possa fare, perché la tesi del libro è che le raffigurazioni, in molte, perlomeno di queste raffigurazioni, la funzione parenetica, cioè di ammonezione dell'aldilà, non si esauriva in una generica esaltazione ad abbandonare la strada del vizio a favore di quella della salvezza, ma assumeva dei contorni molto, ma molto più miranti. L'impressione è che si cercasse di indirezzare in un senso molto preciso i comportamenti di coloro, i quali erano destinatari delle immagini. Spesso, quindi, noi possiamo ravvisare, ecco un po' il punto che vorrei mettere in luce, dietro a queste immagini un obiettivo, in termini di comunicazione, che non è semplicemente di natura religiosa, è anche di natura religiosa, ma spesso è anche di natura sociale. Ora, a farmi venire il sospetto che dietro a queste immagini ci potesse essere questa finalità, o perlomeno in molte di queste immagini, è stata la constatazione che le categorie di peccatori raffigurate nei diversi luoghi erano spesso diverse, non sono mai le stesse. Anzi, dirò di più, a volte sono proprio molto, molto particolari. Cosa questa piuttosto curiosa se consideriamo che nel Medioevo, in realtà, i sette peccati capitali rimasero quelli, i dieci comandamenti non cambiarono. Dunque, noi vediamo raffigurate diverse categorie di reprovi perché diversi sono i messaggi che si vogliono. Allora, da questo punto di vista, la raffigurazione dell'inferno è uno straordinario strumento di comunicazione. Infatti, dobbiamo partire da un presupposto che è questo, che gli esempi negativi, perché poi questi sono i peccatori raffigurati nell'inferno, sono degli esempi negativi. Ecco, questi esempi avevano senso solo in funzione degli esempi positivi. Il meno esiste solo in funzione del più. Quindi, raffigurare certi peccatori significava indirezzare la società, il fedele, verso atteggiamenti speculari e contrari a quelli bui. Allora, qualcuno potrebbe dire a questo riguardo, ma se il fine ultimo di questa pittura era quello di proporre dei modelli, perché non puntare direttamente sulle raffigurazioni del paradiso, anziché su quelle dell'inferno? Perché non rappresentare in paradiso le azioni meritevoli di ricompensa, anziché giocare un po', secondo una logica al contrario, sulle raffigurazioni dell'inferno? La risposta è che gli uomini del Medioevo ben sapevano che delle due grandi leve del comportamento umano, cioè la paura del castigo e la promessa del premio della ricompensa, era senz'altro la prima ad avere una più forte presa sulla società. E questo ce lo ricorda uno dei più grandi, più celebri predicatori del Trecento, Giordano da Pisa, che così scrive in un suo quaresimale. Sopra tutte le cose di questa vita è utile la memoria del giudizio e delle pene, il giudizio universale. Impero che, dal momento che, i peccatori non pare che si rimangano dal male, cioè che si trattengano dal male, se non per paura, quasi non se ne astengono mai, se non per paura di pene. Quindi è chiarissimo. Allora, fatta questa breve introduzione, vediamo un po' di queste immagini. Io per la nostra chiacchierata di oggi ne ho selezionate tre, in funzione dei diversi committenti che sono all'origine di queste raffigurazioni. La prima, che vediamo subito nella slide successiva, è famosissima, naturalmente, si porta a Padova e la vicenda ha per protagonista un ricco finanziere di condizione nobile, era un Mides, cioè il ricco Sproveni, che all'inizio del Trecento promuove la costruzione, nel vecchio sedime dell'arena, di un palazzo, del proprio palazzo, e poi di una cappella di famiglia dove chiama a realizzare un bellissimo ciclo di appresi, però oggi possiamo ammirare quello che era il più celebre pittore del tempo, cioè ora, grazie alle ricerche di altri colleghi, di Chiara Frugoni, Serena Romano, in primis, noi oggi possiamo risentare la tesi che era stata avallata da tutta una storiografia, che vede nella chiesa fondata da Enrico il prezzo pagato da un usuraio, il prezzo della salvezza pagato da un usuraio figlio di un altro usuraio. Il fatto è che nelle fonti, a cominciare dal testamento di Enrico, non c'è nulla che possa avallare questa chiesa. Lo Sproveni non concepisce la chiesa come un riscatto per presunte attività, concepisce invece la chiesa come un atto di carità, ce lo dice anche il nome stesso della chiesa, la sua titolatura Santa Maria della Carità, la conosciamo come Cappella degli Scrovegni, ma questa è la sua titolatura corretta. Il resto, come dice l'angelo di Matteo, non di solo pane vive l'uomo, e quindi Enrico, anziché fare delle elemosine ai poveri, mette a loro disposizione un luogo di preghiera dove possono, grazie a degli affreschi bellissimi, imparare anche alcuni cardini della dottrina. Ora, tanti elementi ci fanno capire che Enrico Scrovegni concepisce precocemente questo disegno, cioè quella che lui fa costruire è sì una cappella di famiglia, ma una cappella che fin dalle origini intende aprirsi alla società circostante, non è limitata cioè alla funzione dei soli membri della sua famiglia. Quindi chiede e ottiene diritti parrocchiali, ottiene delle indulgenze per chi visitasse la chiesa in occasione delle feste mariane, di tutto questo per attirare gente. Ora, il punto però è che, al di là di queste precisazioni, il tema del rapporto con il denaro per Enrico rimane comunque molto delicato, che le malelingue parlano, perché comunque su che cosa sia l'usura, all'epoca c'era molto dibattito, i francescani che erano all'avanguardia nella riflessione su questo tema, teorizzano che prestare a favore della comunità, quindi non tesaurizzare, ma mettere le sessorse in circolo, non sia un'attività generale. Quindi in senso stretto il nostro committente non è un usuraio. Di fatto però appunto la materia era controversa e allora come vedremo Enrico utilizza anche la raffigurazione dell'inferno per allontanare da sé ogni sospetto. Come è organizzato l'inferno? Ma lo vediamo forse meglio in quest'altra slide, qui vediamo un dettaglio. Comunque è rappresentato non ispirandosi ai sette peccati capitali, ma al cosiddetto ternario delle competenze, che sono la lussuria, la superbia e l'avanguardia. E tre ambiti spaziali molto riconoscibili sono dedicati a ciascuno di questi peccati. Qui vediamo quello della lussuria, i responsabili dei peccati della carne, divisi in gruppi e sottogruppi. Vediamo che ci sono coloro che non praticarono la continenza, tra cui anche degli ecclesiastici che sono impeccati per la parte del corpo con cui peccarono. Quindi la lingua, il sesso, perfino i capelli. Questa donna impeccata per la treccia, perché i capelli erano il simbolo della lussuria femminile e quindi della seduzione. Poi gli sodomiti, trapassati da parte a parte. Un frate viene evirato con delle tenaglie. E poi sotto c'è una scena molto esplicita. Vediamo un uomo che offre denaro a una donna, probabilmente una prostita. Ora, questa stessa tecnica di esemplificazione noi la troviamo anche per le altre due categorie. Nel caso dei superbi è molto semplice, perché noi abbiamo prefigurati semplicemente i seminatori di discordia che sono divisi in due. E poi l'altra categoria, i ribelli, che è affidata all'angelo ribelle per antonomasia. Più interessante dal nostro punto di vista è l'ultima categoria, quella degli avari. Perché Giotto non può fare a meno di rappresentare questa categoria se non al prezzo di alterare appunto lo schema del ternario delle conti. Dunque l'alvarizia viene scomposta nelle sue facce costituzionali. Però ecco il punto che introducevo prima, nessuna di queste in qualche modo lambisce le attività finanziarie, le attività economiche di ricostruzione. E quindi noi troviamo innanzitutto la simonia che vediamo in basso a destra. C'è un chierico inginocchiato davanti a un vescovo che gli offre una sacca di denaro, probabilmente sta comprando un ufficio e un beneficio ecclesiastico. Poi abbiamo naturalmente Giuda che per trenta denari, lo vediamo in piccato con i visceri speciati, che per trenta denari è Cristo. E poi ancora vediamo altre figure molto interessanti. Un collega, Gano Milani, riferendosi a queste figure, le ha definite come le incarnazioni dell'avarizia tipiche della sfera civica. Vediamo un bodestà cittadino con il mantello di vaio, la berretta rossa. Poi vediamo un mugnaio, preceduto da un diavolo vestito anch'esso da ufficiale, probabilmente l'ha detto appunto alla riscossione dei dazi, a segnalare la truppa, la complicità. Allora se volessimo provare a tirare le somme potremmo dire che in un'espressione quello commissionato da Enrico è l'inferno degli altri. Questo non solo perché i nostri vieni si fa ritrarre tra i giusti, i piedi della croce, ma perché tra le categorie dei peccatori che sono rappresentati non ce n'è nessuna che possa indurre lo spettatore ad un'associazione con il committente. Allora capiamo perché Ancio, il committente Enrico Straveni, si adoperò per aprire la chiesa al pubblico. Perché non solo questo era l'unico modo per fare della chiesa di Santa Maria un'opera davvero caritatevole, cioè a vantaggio della comunità, ma perché era anche l'unica strada per rendere davvero pubblico questo messaggio, un messaggio appunto che riguardava lo Scrovegni in maniera. Ora questo è solo un esempio di un affresco dell'inferno che ha come committente un singolo individuo. Nel libro ne ho individuati altri parimenti interessanti. Ora però vorrei passare invece oltre. Mi sono chiesto, ma ci sono anche dei soggetti collettivi che agiscono come committenti di simili appresti e in particolare i comuni fecero ricorso a questo strumento di comunicazione e la risposta è senz'altro affermativa. Ci sono dei frammenti di giudizio che sono stati rinvenuti nel broletto di Brescia, nel palazzo della ragione di Mantua, ma è probabile che simili rappresentazioni si trovassero anche in altri palazzi comunali, solo che per le modifiche architettoniche e artistiche subite durante i secoli non si sono conservati. Tuttavia chi ha studiato gli storici dell'arte, chi ha studiato questi lacerti, questi frammenti di affresco, ha osservato che erano questi affreschi riprodotti alle spalle dei magistrati, dove i magistrati amministravano la giustizia e quale loro spalle c'erano queste scene di giudizio. A che cosa servivano? E qui ce lo fanno capire delle immagini che si riferiscono al mondo transalpino, dove questa usanza si è tramandata anche nei secoli successivi. Lo vediamo bene per esempio in questa tavola del 1478, che oggi è conservata a Graz, che raffigura l'amministrazione della giustizia da parte del magistrato del podestà Niklas Strobel. E che cosa osserviamo? Osserviamo questo gioco di spettro che doveva essere visibile a tutti nelle aule di giustizia, anche quelle italiane di cui abbiamo parlato. Vediamo in basso il magistrato con la sua curia e in alto invece vediamo il giudice, il giudice per autonomasia, con la curia celeste e sotto c'è appunto la scena del giudizio universale con la risurrezione dei corpi giusti che si avviano alla salvezza e i dannati trascindati da un diavolo invece verso l'infetto. Dunque a che cosa serviva questa giusta posizione tra la corte terrena e la corte celeste era un modo per legittimare evidentemente l'attività dei magistrati. Tuttavia non era questa l'unica funzione della raffigurazione del giudizio nelle sale dei palazzi civici. Ce n'è anche un'altra che ci viene resa esplicita da un'altra bellissima tavola. Ecco la vediamo, passiamo a Vesel, è un'opera di Derek Begert e vediamo una scena di giustizia. Che cosa osserviamo? Osserviamo un sacerdote che mette un approccio davanti al testimone, impone di giurare e il testimone è diviso perché da un lato c'è un diavolo che lo induce alla menzogna e dall'altro lato un angelo che lo induce invece a dire la verità. Ma ecco che sulla scena interviene il magistrato che ha le sue spalle, il testito d'oro, che indica, lo vediamo con un gesto molto netto, la raffigurazione del giudizio che c'è di lato. È un'ammunizione terribile. L'imputato deve sapere che le sue azioni nel tribunale, nell'aula del tribunale, avranno delle conseguenze anche ultraterrene. Porteranno cioè anche alla, come dire, possibile dannazione dell'altro. Quindi è una forma di ammunizione. Ora, la cosa che possiamo mettere in luce è che a conferire significato a queste raffigurazioni del giudizio non è naturalmente una particolare declinazione dello stesso tema iconografico o una particolare rappresentazione dell'inferno. Qui è il contesto, siamo in un'aula di giustizia, è il gioco di rimandi tra il contenitore e il contenuto. Allora questo significa che in Italia nessun comune fece un uso della raffigurazione dell'inferno analogo a quello, per esempio, di Enrico Scroveni, con un inferno molto tematizzato e connotato. Tutto il contrario vuol dire semplicemente che non dobbiamo cercare queste testimonianze nelle aule di giustizia, ma le dobbiamo cercare nelle chiese. Quali chiese? Quelle che erano di patronato comunale. L'esempio che vorrei portare è quello della chiesa bellissima, della Santissima Annunziata a Cori. Cori oggi è un comune in provincia di Latina. Qui, appunto, abbiamo questo prendido affresco. Il giudizio in particolare fu commissionato dal comune, lo sappiamo attraverso l'iscrizione, negli anni venti al pittore Pietro Poneberti e alla sua morteggia. Andiamo ad analizzare subito l'inferno perché, come dire, è una raffigurazione estremamente interessante. Ecco, lo vediamo qui un po' più in dettaglio. Allora, come spesso, purtroppo, nelle chiese, la figura di Lucifero è stata abrasa. Questa è una cosa che, per fini, diciamo, autotropaici, inauguranti, spesso è avvenuta nel corso estremamente. Però, per fortuna, si conservano tutte le scene intorno. E che cosa ci colpisce? Ecco, che volendo trovare la chiave per interpretare questa raffigurazione, possiamo dire che ci sono due precise tipologie di peccature. Coloro che misero a repentaglio la coesione della comunità e coloro che misero a repentaglio l'unità della famiglia, che della comunità è il mattone costituito. Cominciamo, innanzitutto, a vedere, in alto, a destra, si vede un diavolo che taglia a metà il traditore, appeso a testa e in giù, e in un evidente contrapasso. Cioè, chi crea divisioni e sovvertimenti viene a sua volta capovolto e diviso. Ecco, si noti, tuttavia, che un comportamento speculare a quello di chi mina l'integrità del corpo politico è quello di chi mette a repentaglio, invece, il corpo dei suoi membri, come fa, appunto, la affattochiera. L'affattochiera, che qui vediamo nel cardelone bollente, è quella che con le sue malie e con le sue pratiche che cagiona, o così si pensava, la malattia o la morte degli inni. Ora, notiamo un'insistenza particolare, appunto, per i comportamenti economici che possono provocare danno alla comunità. Quindi, innanzitutto, abbiamo, in basso, ai piedi del lucifero, vediamo un dannato con due sacche di denari in mano e quello è l'usuraio, colui che tesaurizza, anziché mettere in cibo. Poi, notiamo che, in braccio a lucifero, ci sono due rappresentazioni molto stereotipate dei supervi, un papa e un imperatore. Ma di fianco al papa, che conosciamo per il triregno in testa, leggiamo testatore, il testatore. Il riferimento non è genericamente a chi fa testamento, a chi fa testamento non c'è nulla di male, è a chi fa testamento dimenticandosi di restituire le usure, cosa che anche i notai suggerivano di fare all'atto della redazione del testamento. Perché questa è un'attività che, questa dimenticanza va contro l'interesse della comunità. Perché questo? Perché a distanza di anni poteva essere difficile trovare coloro ai quali restituire il mal tolco, loro o i loro erenti. Però i predicatori insegnavano che, diciamo così, la coerenza dei gami economici all'interno della comunità era preservata se questo denaro veniva comunque riversato per un utile collettivo, attraverso cioè delle elemosine. Ecco perché la comunità si preoccupa di inserire anche il testatore, il testatore, diciamo, un po' disattento. Ora, vediamo che qui piano piano sta prendendo corpo un ideale modello di comportamento economico di tipo virtuoso. E allora vediamo che ci sono anche altre categorie che sono riconducibili a questa idea. Vediamo il macellaro e il cavernaro. Il macellaro, sulla sinistra, che è appeso a dei ganci, quelli da macello appunto, mentre il cavernaro, il caverniere, è con la testa conficcata dentro una ponte. Ora, a determinare il loro destino non è naturalmente la professione in sé, ma la cattiva intenzione con cui esercitano la proposta. Perché, come dire, tradiscono, possono tradire, la fides, la fiducia del corpo. E' vero che il prezzo di un bene era determinato dall'interesse del compratore, come è ancora oggi. Però è anche vero che anche oggi noi ci fidiamo del compratore, sia del venditore, sia rispetto alla quantità, se io compro un chilo di pane, mi fido della bilancia del panettiere, sia rispetto alla qualità. Se compro un maglione di lana, mi fido del fatto che sia di lana e non di tessuto sintetico. Ora, abbiamo parlato delle logiche economiche dietro la comunità, ora soffermiamoci invece sull'insistenza per la famiglia come struttura da proteggere da tutti quei comportamenti che ne minano sia la coesione sociale, sia la funzione come ordinata struttura di ridistribuzione del merito. Innanzitutto è molto curiosa come venga declinato nell'affresco il quinto comandamento, non uccidere. Ecco, c'è un cartiglio che parla dell'omicida degli parenti, non dell'omicida in generale, ma di colui che uccide i genitori, i genitori in alcun modo. Poi troviamo raffigurati, li vediamo in alto, a testa in giù, sopra la testa di Lucifero, in una pozza da cui escono delle fiamme, Lucumpatre e Lacomare, che nell'essico dell'epoca indicano i due amanti fedi. Il tema per le relazioni adulterine è assolutamente centrale e infatti ai piedi di Lucifero, qui la foto purtroppo non ce lo fa vedere, ma vi prego di fidarvi, c'è un cartiglio che dice quelle che fallo agli mariti, cioè coloro che furono infedeli agli mariti. Tutto questo ritorna insistentemente perché sempre tra i peccatori abbiamo la femmina depuctane, una costruzione partitiva per dire una di quelle, ma riferimento non è probabilmente alla prostituta, ma a quella che ha una vita dissoluta. Il termine appunto puctana può avere anche questa accezione. E sicuramente questa accezione ammellata ce l'ha il prete puctanero, che qui vediamo appeso per i genitali. Chi è il prete puctanero? Non è il prete che va con le prostitute. Il prete puctanero è quello appunto che va con le altre donne, in particolare con le donne della comunità. Alla comunità che il prete sia a debito a piaceri del sesso mercenario, non interessa nulla. Questo sarà un problema del vescovo, non della comunità. Quello che la comunità teme è che il prete possa insidiare le donne della comunità. Noi questo lo sappiamo con certezza, perché in certe aree d'Italia, a questa altezza cronologica, il parroco, lo eligevano le comunità. Si sono conservati atti tra le comunità e il parroco e vediamo che una delle clausole più ricordanti è proprio quella che vieta al parroco di avere relazioni con le donne del prete. Perché questa insistenza per l'adulterio, il tradimento, le relazioni sessuali? Perché evidentemente tutto questo ha due grandi implicazioni. Uno, sulla legittimità della prole e il secondo problema riguarda appunto l'asseghi ereditario, come questo va fuori. Potremmo dire, beh, ma allora in questo fresco non c'è nulla che risponda ad una logica tutta religiosa e spirituale. C'è in effetti il bristrimatore di Dio, cioè il bestemmiatore. E tuttavia anche in questo caso la preoccupazione della comunità è di ordine sociale perché era diffuso all'epoca il convincimento che bestemmiare Dio attirasse la collera divina non solo su colui che ne era responsabile, ma anche sull'intero gruppo, sull'intera comunità. E non è un caso se gli statuti di statistica comunità vietassero e punissero con pene severe proprio la bestemmiare. Ora, il terzo e ultimo caso che presento, non voglio rubare troppo tempo, non voglio annoiare, è quello che vede come committente di una raffigurazione dell'inferno un ordine religioso, non a caso, un ordine non casuale. Si tratta infatti dei francescani della osservanza. L'osservanza francescana nasce nel Trecento, però ha la sua grande fortuna soprattutto nel Quattrocento grazie a una figura come Bernardino d'Assievi. Gli osservanti avevano in mente come progetto la creazione di una società diciamo disciplinata da severe leggi morali che noi ritroviamo nelle prediche di questi francescani che si sono conservati e poi anche appunto negli affreschi delle loro chiese. Siccome la predicazione per gli osservanti era assolutamente centrale, le chiese hanno una struttura architettonica che deve valorizzare la dimensione della predica quindi sono di solito ad aula unica e poi hanno questi bei tramezzi qui lo vediamo nel caso di San Bernardino a Ibrida che sono tutti affrescati e che permettevano appunto al predicatore di fare dei rimandi visuali durante la sua predica. Vediamo però che alla base del tramezzo c'è un bel giudizio universale siamo sopra la sinistra di chi guarda e poi a destra c'è la raffigurazione dell'inferno ecco questo è il giudizio universale l'autore è Martino Spanzotti siamo negli anni 90 del 400 e questo invece è l'inferno. Ora questa raffigurazione dell'inferno è molto particolare in modo particolare ad essere particolare sono soprattutto le raffigurazioni di due gruppi gli avari e i superbi ed è su questi che io vorrei concentrare. Noi sappiamo che uno dei cardini della predicazione degli osservanti era rappresentato dalla corruzione in ambito giudiziario che viene dipinta come un vero e proprio cancro che divora la società. Bernardino da Siena ci racconta che quando si reca in una qualche località la prima cosa di cui gli abitanti si lamentano è proprio la mala giustizia dei magistrati. Le supercherie sono continue di vario genere chiedono denaro per ogni cosa per accettare le prove per fissare i termini procedurali per emettere la sentenza per orientare la sentenza e la cattiva reputazione dei magistrati alla fine del medioevo è proverbiale diventa un topus Giovanni da Capestrano un altro celebre osservante entra nell'ordine a trent'anni abbandonando proprio la professione di giudice e così anche Giacomo della Marga altro celebre credito Bernardino della Fossa da Fossa altro osservante al condimento del diciottesimo compleanno ci racconta lui si sentì chiedere da un giore consulto aquilano di nome pace che cosa volesse studiare e alla risposta medicina come vuole mio padre il celebre doctor gli rispose cur non leggi perché non leggi perché non diritto lui rispose perché ho sempre sentito dire che i giuri consulti e i causidici sono destinati alle penede e allora tornando ai nostri affreschi non è un caso che nella spelonca infernale dedicata agli avari responsabili di avarizia e presieduta da demone mammona che qui vediamo reggere il vessillo con il suo nome noi troviamo in primo piano disteso proprio un giudice che riconosciamo per la tipica verità ora è disteso su un fianco con le mani in piedi legati a due grosse scarselle una in vita e una al collo con delle sacche di denaro e tutto intorno ci sono le carte giudiziarie che sono la prova della sua corrosione e la pena infritta al peccatore è chiaramente ispirata al contrapasso così come in vita lui ha disposto lo strazio delle carni altrui da morto il suo corpo subisce un tormento panale ma qui entra un elemento di grande originalità sul piano incontrato perché esecutori di giustizia della giustizia divina sono infatti dei fanciulli che qui vediamo penetrare nelle carni del giudice si vede anche il rivolo di sangue nel punto in cui il corpo del fanciullo entra nel corpo del giudicente perché dei fanciulli perché qui il pittore non ha fatto altro che ispirarsi a quei rituali di giustizia che erano diffusi nella società basso-medionale e che in società urbana in modo particolare e che affilavano proprio ai fanciulli l'espulsione dei nemici dalla comunità cioè erano i fanciulli che scortavano per esempio i condannati a morte che ne accompagnavano il corpo fuori dalle mura erano i fanciulli che erano talora incaricati di tirare pietre contro i condannati a morte e questo perché i fanciulli in realtà in ragione della loro innocenza non correvano appunto il rischio di contaminarsi quel contatto con i ui c'è però un secondo elemento che è tipicamente osservante in questo affresco e lo vediamo qui nella raffigurazione dell'ultimo sepolcro quello più basso dove si unisce il peccato più grave la superbia Martino Spanzotti chiamato a raffigurare i superbi vi rappresenta in perfetta coerenza con l'insegnamento appunto degli osservanti i guelfi e i ghibellini qui vediamo Lucifero il demone che governa la spelonca della superbia che prende per la testa due parziali due membri delle artes delle fazioni identificati dal vessillo che recano in mano sono uno un ghibellino e l'altro un guelfo e vedete fa sbattere loro violentemente la testa tanto che si vede anche un rivolo di santo così come questi in vita si scontrarono adesso in una sorta di contrapasso si scontrano anche la morte ora i predicatori osservanti ritenevano che le fazioni fossero incompatibili con la carità la carità che cos'è l'amore verso il prossimo l'amore verso tutti i parziali invece provano amore soltanto per i membri della propria parte e odio per gli appartenenti alla fazione inoltre i predicatori pensavano che le fazioni fossero una invenzione diabolica e che l'aquila simbolo dei chibellini e il giglio simbolo dei guelfi fossero di fatto degli idoli che i faziosi appunto adoravano e questo appunto giustifica in qualche modo l'associazione tra faziosi e persone perché l'idolatria un po' come l'eresia è il volto intellettuale della sua chi sono gli idolati chi sono gli eretici sono dei superbi desiderosi di autoaffermazione persone che si danno in se stesse delle coordinate morali e religiose rifiutando invece quelle che vengono loro appunto dall'inizio ecco io mi fermo qui perché mi rendo conto ho già parlato per tanto e diciamo lo scopo di questa presentazione era quello di così un po' incuriosire e dare il senso della ricerca che è stata quindi ringrazio moltissimo per l'opportunità che mi sono stata asperta e insomma grazie davvero ecco adesso per salutarci le chiedo di togliere la condivisione così riusciamo a farci vedere ci provo subito interrompi condivisione ecco fatto ecco perfetto è davvero un modo un punto di vista molto particolare perché su affreschi anche di queste dimensioni perché alcuni sono anche abbastanza voluminosi andare nel dettaglio per capire qual è il messaggio che sottintende alla scena è qualcosa che quasi nessuno fa no? noi ci fermiamo spesso ad ammirare l'opera nella sua interezza ma sono proprio i dettagli che invece trasmettono il messaggio sottinteso e questo è veramente molto molto interessante anche per gli esempi che ha portato quindi io siamo noi che la ringraziamo per averci aperto questo mondo e sicuramente è un invito ad andare a visitare le chiese o vedere gli affariati questo sarebbe già un ottimo risultato anche perché molte di queste chiese sono un po' fuori dai circuiti turistici più tradizionali sì 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 e quindi è veramente nello spirito con cui Italia Medievale opera che è quello di portare la gente a conoscere il patrimonio immesso che noi abbiamo e che spesso è poco valorizzato perché è fuori dai circuiti tradizionali e quindi è veramente con grande piacere che abbiamo presentato questo libro ci sarebbe piaciuto tanto poterlo fare in presenza perché chiaramente ha un'altra dimensione un'altra possibilità di interloquire con il relatore però purtroppo ancora siamo in una situazione che non permette di programmare attività in presenza o quelle poche che stiamo riuscendo a programmare sono piene di obblighi limitazioni e quindi meno avvincenti di come potrebbero essere mi rendo conto sì è un limite però intanto è già un primo risultato sì sì certo infatti sicuramente era un libro da conoscere e far promuovere quindi l'abbiamo fatto con grande piacere io la ringrazio ancora tantissimo grazie a voi davvero dell'invito è stato un piacere e spero a presto visto che poi siamo entrambi a Milano prima o poi magari qualcosa in presenza la riusciamo a fare assolutamente sì con grande piacere grazie intanto prego arrivederci arrivederci a Sous-titrage ST' 501